Vedo Salernitana come Frosinone l'anno scorso, una squadra abbastanza quadrata dello che ho visto delle prime due giornate, forse la squadra che ha giocato il calcio più offensivo di tutte, con un attacco fortissimo, con Gavioneta che è un giocatore superiore a questa categoria, lo vedo io così, dopo attaccanti forti, esterni forti, un centrocampo abbastanza aggressivo, sarà una partita molto molto difficile in un campo caldo, però io penso che noi con nostra qualità possiamo dare una risposta sul campo e forse provocare questo pezzo di fortuna che ha mancato in prime due partite. Per una squadra sicuramente che finirà il campionato tra le prime otto.